Sorpassa la mente. In Mongolia, nel distretto di Son Gino Kair Khan, a nord-oveste di Ulaanbaatar, è stato trovato il corpo mummificato di un piccolo monaco che sembra ancora intento a respirare e a meditare. Perché? Commento. Perché chi medita per tutta la vita sorpassa la mente e non invecchia. Grazie.